piccoli produttori di pantelleria che fanno una piccolissima produzione con dei vini che sono qualcosa di fantastico e meraviglioso ecco io assolutamente sul dolce segue il dolce perciò non ho problemi io mi farei qualche salutino dopodiché vi congederei salustro ringraziamo i nostri ospiti che hanno così pazientemente aspettato di andare in onda ci scusiamo ovviamente con gli ascoltatori per l'intoppo iniziale ringraziamo l'editore che ci permette ancora oggi di andare in onda ringraziamo claudia per aver curato la playlist grazie sempre un piacere ci sta ascoltando grazie le sue i suoi suggerimenti l'ultimo l'ultimo chiuderà eccezionalmente la puntata ovviamente anche non conosce nessuno ricordiamo sempre che l'ultima puntata è fra due il 28 giugno e claudia starà qua ovviamente ce lo auguriamo vi diamo appuntamento cari amici anche qui in studio il 28 giugno si mangerà e soprattutto sa va san dir un'espressione che a te molto cara ma è certo si berrà e posto ne abbiamo ancora credo 8 o 9 vado a memoria siamo arrivati a 200 no 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 siamo un piccolo gruppo altrimenti qui il capo ci caccia e la cosa non è gradita quindi mi sa che faccio anche l'evento su facebook così lo spingiamo un po raccogliamo chiudiamo le le adesioni chiunque voglia venire ci fa piacere il 28 siamo qui a ridere giocare in radio ovviamente magari forse ci sposteremo ci impegneremo a fare magari anche una mezz'oretta in più di radio perché magari se abbiamo tanti ospiti ognuno per me cercheremo di fargli raccontare qualcosa di particolare perciò magari resteremo chiedendo sempre l'autorizzazione al gran capo di poter stare un pochino più con voi credo che caro mio che ne dici che secondo me per oggi la puntata finisce qua io qui mi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti